Ragazzi benvenuti in questo nuovo video, io sono Vapor e siamo di nuovo su Pokémon Unite Oggi vi porto un game particolare perché siamo in 5 Io infatti ho questo secondo account, Vapov Smurf Smurf significa puffo letteralmente in inglese Ma è il nome che si mette insomma quando sono account secondari E ci sto insomma arrancando con i sub di Twitch Infatti tra i sub di Twitch c'è anche Charlie Moon che saluto e ringrazio E insomma io vi faccio vedere questa partita che abbiamo giocato in 5 Vedete un po' che saranno un po' diverse dalle partite che abbiamo fatto Insomma Badasoli perché siamo molto più coordinati E magari anche divertente da vedere Io vi invito a lasciare un like ovviamente Iscrivervi al canale e a passare magari su Twitch se volete anche voi Giocare insieme a me, fare il sub e tante altre cose bellissime Ecco vi lascio al gameplay, ciao Ma perché non si vede il rank della squadra avversaria? Non lo capisco Eh non si vede nessun gioco in realtà Ciao Steve Giocherino poi cambiamo, dai facciamo un paio di partite e poi esce qualcuno Cioè Ghost esce dopo questa partita perché ha fatto 87 partite già Io ne faccio un paio poi mollo tranquillo Molla l'osso E devo andare in poste quindi Allora Bene, sapete tutti quello che dovete fare Uccidete Non so come si prendono i tasti Eh devi uccidere Cioè Vabbè fa un po' quello che ti pare che ne so Che ne so io Questa gioventù Vieni su con Lucario, vieni su che facciamo questo Niente Ghost non è d'accordo Ma questo Lucario? Se ne è preso lui? Ah mi sa che se Ah mi che ci sta fregando tutto No no dove vai dove vai Dove c'era Odino Vieni giù vieni giù Era per stare con me per fare l'Audino Così lo stilavamo subito Non è che mi ha laggato tutto Non ho capito niente Allora io ci sto sotto Se volete fare dare Arriva Lucario Che rompe le palle Eh fai una cosa vai dietro a fare il corfish A meno fai Evolvis Ok Ora sono Mi fai il 4 non che a me Ok Ma le apine le apine le apine No Sto via No Madonna come sta Mi sta laggando un buon Vieni via via scappa scappa Mi sta laggando un buon Sì vabbè poi Vabbè vabbè api qua dietro Lucario è morto praticamente Dobbiamo questo Eh mi rimaneva il rush con uno di vita Non ho capito perché Come ti permetti Dai che prendo il 6 E mi prendo un bel flash Non ho il flash Eh Faccio a consegnare Sì vabbè Easy Vado via Arrivederlo Ma quanti hanno il flash Ma quanti hanno il flash Tra le mosse che dasciano Aprire quanti flash ha questo Già è cheater Arriva presso Greninja Ma per scendere serve il 6 Però Sì decisamente Serve il 6 Eh faccio le apine Che escono adesso Eh sì Sto aspettando 3 2 Api E si scende Arrivate tutti sotto Arrivate tutti sotto Meglio Ci hanno lasciato le api Vabbè tanto Mancano 10 secondi Ancora Quello Facciamoci il corfish Qui Bravo Sono all'otto e mezzo io Mi servono Un paio di miglior Questo What? È sparito Guardate qua Perché c'è un Greninja qua Ma? C'è un Greninja E ancora Frochi Fatemi Scusa Questo Questo Lucario Lucario Dai che muore Lucario Ma qua c'è ancora La Hals E mori No Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci Ah è morto Da fine Sì sì è morto È morto Aiuto Ok Io sto qua Io adesso Li fermo Io posso Facciamolo 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 Con Wiggly Wiggly va E vabbè Base Consegniamo E c'ho la ulti Ci abbiamo tutte le ulti Vai Ulti Ulti Vai Vai Dentro 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 Distruggiamo Distruggete Tutto Distruggiamo Tutto Consegniamo I 40 I 40 Solo i 40 Solo io Solo io Solo io Va bene Va bene Andiamo verso top Passiamo di qua A destra A destra A destra Destra qui Eccolo E rubiamolo tutta la giungla Eccolo qua E rubiamo questi Senza magari farci uccidere Proprio da Baffalat E perché proprio da Baffalat Facciamo Lucario E andiamo di qua Corfish Si è bene Lucario Quello che è Ridicolo Vai ci mangiamo Smo È un insulto Ridicolo Sentito Assegna la ulti Ok Bello Sì 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 Vai Consegniamo Perfetto Ottimo Ottimo Vado in base Rifaccio il giro Voi farmatevi la giungla Il possibile Gli audino sopra Quello che è Insomma Io vado a fare gli audino in top Le apette in bot Tu 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 Non ne lasciamo niente Va bene coach Va bene Poi andiamo Quanto manca Dreadnought Dreadnought Un minuto E qualcosa Mi sa Se riuscite a prendere Qualche kill safe Prendete Senza Andare troppo In lan Insomma Venti secondi Charlie Venti secondi Adredd Arrivo Io non ho Non ho il flash Perché l'ho usato Abbiamo le ulti Io ce l'ho Ulti di Wiggly Ulti di Green Ninja E basta Anche la mia Sono 96 Adesso arrivo La tua sarebbe Bellissimo Ok Vabbè lo rasciamo Lo rasciamo Sempre Wiggly Zona Zona gli altri Wiggly vai Vai a zonare gli altri Occhio Occhio Lucario 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 Mena Lucario Mena Lucario Vabbè Damo meno Solo Lucario Qua fightiamo Fightiamo Entriamo Sì Vai 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 Entrate Vai 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 Vado su kill Ok Consegniamo C'è Green Ninja dietro Lucario muore Io ho 40 punti Da consegnare E non hai consegnato Questo muore pure E vabbè Vai 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 Morte 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 pure questi Morte pure questi Consegniamo la base centrale Vai vai Consegnate qua Oh Oh Per questo morto Ok Non esageriamo Andiamo via Andiamo via Andiamo via Che sono invincibili Loro adesso E la giungla qua però Qua effettivamente la giungla Qua ho sbagliato io Vabbè Andiamo via Andiamo via Andiamo via Andiamo via Adesso ormai è tardi Ma perdoniamo coach Ormai è tardi Ho sbagliato la colla Era la prima giungla Poi back Qua sono tanti Andiamo via Addormentiamo E via Scappiamo e basta Scappiamo e basta Ma il roton se lo dobbiamo fare Se ce la fate Sì sono in 5 sotto Da dentro la base Fai diamoli Fai diamoli dentro la base Che Secondo me vinciamo pure 3v5 Porca Cazzozza Oh ma chi ti ha Bacchi dietro Mi fanno Mi fanno No pure a me Pure a me Annultato tutti Lascia 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 la base Vabbè meglio meglio Abbiamo abitato Dredno Li abbiamo abitato Dredno Proprio precisi Stanno facendo Dredno 10 secondi Spona Probabile No no Stanno top Stanno Dipendendo Stanno top Io ho ulti app Tenete le ulti Non le usate Ho ulti in due Stamattina intanto Mi lagga sto gioco Non so perché Ok Uno che tiene sempre d'occhio Zapdos Se lo start Non lo dobbiamo saperlo Sono qua Stanno arrivando però Dalla top Non lo stanno startando però No Ok 5v5 lo vinciamo Greninja ultato Siamo in 4 Cazzozza Delucare è morto Vediamo Vediamo lentamente Greninja dietro Dai muore Greninja Morto Morto Greninja Piano Piano Vieni fuori Vieni fuori Sinderei Sinderei Zapdos No L'abbiamo preso L'abbiamo preso L'abbiamo preso Insegnate nella centrale Che cammina Che go Stai tryhardando Così si gioca I team Eh si Wigglytuff Bliss Ragazzi Bello Non avendo mai Giocato support Non sapevo Se così Ma aggiungici pure Elde E' anche buono E' anche buono Da giocare In lane Eh direi Well done Well done Io sono in Road to Ultra In questo momento Easy Che ci vuole